Allunga troppo il pallone, allora c'è ancora un corridoio centrale per la Paganese, c'è lo spazio per Diop, l'1-2, Zanini col destro, il vantaggio della Paganese, chirurgico il destro di Matteo Zanini che sblocca il parziale dopo 15 minuti, Catania 0, Paganese 1, la rete di Matteo Zanini. 1-2 che si è chiuso perfettamente fra Diop e Zanini, non c'è arrivato Sala che si è allungato sulla sua sinistra e dunque si sblocca il parziale, prima rete stagionale per Zanini che ha segnato al Catania già con la maglia dell'Akragas, ma questa è una rete...